Buonasera e benvenuti dal Palacuarta di Oretti di Monteroni, intervista infrasettimanale con Bautista Foce. Buonasera Bautista. Buonasera a tutti. Ti stai confermando anche quest'anno davvero una colonna portante della nuova pallacanestro Monteroni. Come ci si sente a rivestire il tuo ruolo? Niente, la verità mi sto trovando molto bene in Monteroni, già l'anno scorso quando aveva finito la stagione io già sapevo che volevo giocare un altro anno qua a Monteroni. Niente, sono uno che le piace allenarsi al massimo durante la settimana e la domenica dare energia alla squadra che è lo che l'allenatore vuole da me. Lo sta dimostrando il fatto che quasi ogni domenica stai prendendo il risultato, il titolo di MVP della partita, confermandoti sempre su punteggi in doppia cifra. Ora siamo prossimi alla quinta giornata, cosa ci si aspetta da questa partita? Niente, io penso che la temporada è molto dura, la serie C-Pugliese è dura e dobbiamo fare le cose bene per arrivare all'obiettivo che sappiamo tutti e continuare a lavorare. Domenica prossima ci aspetta ulteriore trasferta, andiamo a Barletta. L'obiettivo senza dubbio è quello di vincere. Cosa pensi della partita che appunto ci spetta domenica? Come ti ho detto prima, Simone, la serie C è molto dura. Barletta ancora non ha vinto nessuna partita, ma questo non vuole dire niente. Dobbiamo preparare bene questa settimana la partita per arrivare a domenica e portarne due punti a casa. Grazie BAU. Noi vi lasciamo dal Palacuartetti di Monterroni è tutto, una buona serata. Vi aspettiamo domenica prossima in diretta sul canale YouTube NPM TV.